Se ti affidi alla fatturazione elettronica di Eruba, potrai stare tranquillo. Grazie ai suggerimenti di compilazione, la creazione della fattura sarà semplice e rapida. Tuttavia, nel caso in cui il tuo documento non dovesse superare i controlli del sistema di intrescambio, verrai informato sul tuo pannello e alla PEC registrata sul servizio. All'interno della notifica troverai tutte le motivazioni dello scarto o il tipo di errore commesso. In particolare, nel caso di una fattura scartata a causa di una partita IVA non valida, con fatturazione elettronica di Eruba potrai correggere e inviare nuovamente la mail entro 5 giorni dalla ricezione dello scarto, senza necessità di modificare data e numero della fattura, come previsto dalla normativa. Adesso che ti abbiamo spiegato come fare in caso di errori, vai al prossimo video per saperne di più. Grazie a tutti.